Musica Sono felice di sapere che siete davanti al televisore oggi Vi stiamo portando la parola di Dio Sotto l'unzione dello Spirito Santo E questo vi incoraggerà Perché anche oggi parleremo del topico operare insieme Quando noi operiamo insieme nella volontà del Signore Dio opera davvero Perciò io mi aspetto che Lui operi anche in questo momento Mentre voi ascoltate nella vostra vita Perciò abbiamo condiviso la scrittura in Corinzi capitolo 6 versetto 1 Noi siamo operatori insieme con Dio Noi abbiamo visto come Gesù operava insieme ai dodici apostoli Che uscivano per parlare di Gesù Per portare la parola E Lui confermava la parola con segni, miracoli e prodigi E abbiamo visto anche Da Luca capitolo 5 Come i pescatori erano così scoraggiati Perché avevano pescato tutta la notte e non avevano preso nulla Ma Gesù arrivò E disse loro Vettate le vostre reti nel profondo e non preoccupatevi Gesù aveva la visione di loro che avrebbero avuto un grande raccolto Una grande pesca E all'inizio erano un po' titubanti di operare con Lui Che Pietro disse abbiamo pescato tutta notte e non abbiamo pescato nulla In altre parole Quello che stai dicendo tu non conta perché ormai abbiamo provato Ma la prima cosa che Gesù disse a Pietro disse Lasciami usare la tua barchetta come una piattaforma Gesù salì su questa piattaforma e cominciò a parlare alla folle che c'era E le persone mentre Lui parlava erano molto attenti E questo atto di fede di Pietro di dare la sua barchetta a Gesù Fu un grande successo perché fu un atto di fede Certamente lui era scoraggiato perché aveva pescato tutta notte senza prendere nessun pesce E avrebbe potuto prendere un'attitudine negativa e dire Non mi interessa ascoltarti perché sono arrabbiato Quello che io voglio sono i pesci, i risultati, di vedere la mia fatica Ma fu molto saggio e mise Gesù al primo posto E mentre Gesù proclamava la parola dalla barca Tutta l'atmosfera cambiò Non solo mentre Lui parlava ricevevano cibo per il loro spirito Ma la loro speranza crebbe E la loro fede si sviluppò E cominciarono ad aspettarsi grandi cose da questa parola E noi vediamo in alcuni punti che vi dirò che il primo punto è la sua presenza E' molto importante sapere che quando noi operiamo insieme sappiamo che c'è la presenza del Signore Noi non dobbiamo operare indipendentemente da Dio Dobbiamo poter ascoltare la voce dello Spirito Santo ogni giorno E operare secondo quello che ci dice Qualche volta le delusioni ci possono portare in un'attitudine negativa E possiamo veramente non recepire le cose meravigliose che Dio ha per noi Ma se noi ci rendiamo conto della sua presenza Questo fa la differenza Anche quando le cose non vanno come noi vorremmo Se tu ti rendi conto che Dio è con te E Lui lo è Perché ha promesso di essere con noi Gesù ha detto non vi lascerò e non vi abbandonerò Io sarò con voi sempre Perciò loro avevano avuto comunione con Gesù Loro avevano una connessione divina E quando noi veniamo a Cristo nascendo di nuovo E ci sottomessiamo alla sua Signoria Possiamo godere comunione E ricordiamoci che abbiamo una connessione divina Perché Gesù è il mediatore fra Dio e l'uomo Perciò loro si rendevano conto Della sua presenza Ed erano stati in comunione con lui E più la sua parola veniva recepita Più la speranza cresceva in loro Numero uno La sua presenza Numero due La loro fame Luca dice in capitolo 5 Che loro si avvicinarono al Signore per sentire la parola Erano attenti Andavano verso di Lui Per sentire ogni parola che veniva pronunciata Onorarono Rispettarono La parola di Gesù E per la sua presenza E allora le cose meravigliose cominciarono ad accadere Dobbiamo dare molto valore Alla sua presenza Alla sua parola Dobbiamo chiamare Gridare e operare con Lui Questa è la più grande cosa Nel mondo di oggi le persone sono così occupate Non so se avete notato ma soprattutto negli ultimi mesi io ho notato C'è una fretta Io ero nelle strade di Londra E vedevo che le persone avevano una fretta terribile Non vedevano l'ora di superarti Il traffico era così forte Che sono stato molto lieto Che il mio autista aveva un satellite E sapeva quando voltare a destra o a sinistra Perché non si riusciva a passare le macchine Questo può diventare così anche per noi Diventiamo così occupati Che non abbiamo tempo di ascoltare lo Spirito Santo o la parola Ed è un grande errore Dobbiamo ascoltare La voce dello Spirito Santo Gesù ha detto in Matteo 5 versetto 6 Coloro che hanno fame e sete della giustizia saranno riempiti Noi abbiamo fame di Dio Noi vogliamo avere la sua presenza e godere della sua presenza Dobbiamo veramente andare nelle chiese dove c'è vita Dove è vita che arriva E allora lì la nostra fame sarà soddisfatta E naturalmente nel mondo naturale Quando noi abbiamo un buon pasto Diventiamo più forti Quando noi riceviamo il cibo della parola Siamo rafforzati Luca 2,42 dice la scrittura Che la chiesa primitiva continuava con forza Nella verità Nella comunione Nella preghiera E in comunione reciproca Erano forti Nella loro comunione E continuavano a camminare nella verità Ecco perché la parola crebbe e moltitudini vennerà a Cristo Dobbiamo sviluppare un grande appetito Per la sua presenza Pensate un attimo a quello che succede alle case e alle famiglie nel nostro paese Se mettessimo Dio al primo posto Però anche per un breve momento Al mattino soprattutto E se noi prendessimo un momento insieme Per pregare con la nostra famiglia E quando anche i nostri bambini sono piccolini Cominciare a parlare loro di Dio E guardare la scrittura con loro Se questo succedesse vi posso assicurare Che ci sarebbe un cambiamento di attitudine Non solo in voi ma nel paese Molta violenza sparirebbe Perché le persone avrebbero rispetto Per la parola di Dio Per Dio e per i loro genitori Davide aveva grande fame della parola Salmo 37 versetto 4 dice Una cosa io desidero dal Signore E questo cercherò Abitare nella casa del Signore Per tutti i giorni della mia vita Perciò dobbiamo avere un desiderio Coltiviamo questo desiderio Non siamo distratti da troppe cose Ma mettetevi con Dio e chiamatelo prima di tutto Numero uno era la sua presenza Numero due la loro fame Numero tre una visione più grande Una visione più grande sempre segue Una visione più grande sempre segue Fame E la sua presenza Perciò la visione crebbe E loro cominciarono a rendersi conto Che Gesù non era lì solamente Per parlare loro E soddisfare i loro bisogni spirituali Anche se questo era importantissimo Ma aveva un piano Per rendere questa pesca infruttuosa In pesca fruttuosa E disse Gettate le vostre reti nel profondo Gettate le reti Una grande raccolta di pesci Vedete Quando noi mettiamo il Signore al primo posto Lui ci guida dove ci sono i pesci Lui sa quello che deve fare E lui ce lo mostra Se noi però ascoltiamo E allora saremo meno affannati e affaticati Quando mettiamo Cristo al primo posto Abbiamo bisogno di una visione più grande Più ampia Perché ci sono grandi opportunità Più grandi opportunità ancora Che devono arrivare Dobbiamo smettere di descrivere i nostri problemi E dobbiamo cominciare a renderci conto Che Dio ha dei piani per noi Prima che ci fossero dei problemi Dio ebbe un piano Aveva un piano per noi Prima che arrivasse la malattia Gesù aveva già provveduto a guarire sulla croce Prima che il peccato vi avviluppasse nella vostra vita Gesù pagò il prezzo alla croce Il suo sangue è stato versato affinché siamo purificati da ogni cosa malvagia Perciò Lui desidera che noi abbiamo una visione più ampia Lui vuole che noi crediamo che Lui benedirà il nostro lavoro Il nostro affari Ci darà visione e discernimento nelle nostre scelte Ci darà delle connessioni divine E anche Come comportarci nelle nostre relazioni La sua saggezza è la più grande saggezza che esiste E Lui sa come risolvere tutti i conflitti Lui è pieno di saggezza Seconda re capitolo 6 versetto 17 ci dice Il popolo di Dio era intrappolato da un nemico E Eliseo era lì e lui guardava al Signore E il servo di Eliseo guardò dalla finestra E vide un'enorme quantità di nemici E disse maestro cosa facciamo Siamo circondati C'è un'armata incredibile contro di noi E Eliseo disse apri i tuoi occhi Signore apri i suoi occhi E disse il Signore apri i suoi occhi Guardò e vide le montagne circostanti Piene di carri Un esercito del Signore E questo cambiò la sua attitudine Si rese conto che l'armata del Signore Era molto più grande Era molto più numerosa Dell'armata del nemico Dio gli diede una visione più ampia Non è che l'armata del nemico Sparì immediatamente Ma i suoi occhi furono aperti Per vedere l'armata di Dio Perciò come io dico tante volte Non ti preoccupare del buio Accendi più luce E il buio sparisce E poi seconda re 6-17 c'è la storia Come ebbero vittoria totale Perché avevano una visione più ampia Perciò noi abbiamo bisogno Di una visione più ampia Per vedere che il Signore Ha preparato tanto di più per noi Di tutto ciò che noi abbiamo Sperimentato fino ad ora Però dobbiamo proprio attingere Alle risorse senza fine del cielo Se noi ci aspettiamo Che Lui ci dia saggezza e guida Lui ce le darà E la scrittura ci dice Lui è diventato redenzione e santificazione E saggezza e visione Lui è un Dio di grande visione Visione totale Perciò dobbiamo avere una visione più ampia Numero 4 Una nuova piattaforma Gesù aveva bisogno di una piattaforma Per dare da mangiare A coloro che avevano fame Di proclamare le rivelazioni Del piano di Dio Perciò Lui Usò questa piccola barca Perciò io credo Quando noi usiamo la nostra fede Dio ci dà una nuova piattaforma Affinché possiamo condividere La grazia di Dio Per portare avanti E per mostrare la sua gloria E Dio aprirà una via Affinché voi possiate poi aiutare persone Che hanno bisogno del vostro aiuto E se voi farete così Voi stessi sarete benedetti Salmo 126 versetto 6 dice Coloro che vanno avanti piangendo Ricoglieranno E torneranno con canti di gioia E porteranno il raccolto con loro Sì noi abbiamo dei giorni In cui abbiamo l'esperienza delle valli Quando abbiamo voglia di piangere E sembra che nulla vada bene Ma se noi andiamo avanti Se noi usiamo la nostra fede Noi torneremo con canti di gioia E porteremo il raccolto con noi Porteremo con noi le risposte E gioiremo in Lui John Rockefeller Naturalmente sapete Che era molto famoso in America Lui disse questo Io cerco di trasformare Ogni disastro in un'opportunità Perciò quando succedono cose negative Non è la fine Dio può cambiarle E Dio Può muoversi nella situazione Che state affrontando Quando tu ti ricordi Che tu stai operando con Lui Seconda Corinzi 9, versetto 6 Ci esorta Di seminare abbondantemente Perché colui che semina abbondantemente Raccoglierà abbondantemente Ma se noi Non seminiamo bene Seminiamo poco Raccoglieremo poco Perciò abbiamo bisogno di essere Generosi con il nostro dare Con il nostro incoraggiare Dobbiamo generosamente aiutare Le persone che hanno bisogno d'aiuto Dobbiamo dare anche delle nostre finanze All'opera di Dio Perché se noi semineremo tanto Raccoglieremo tanto Perciò Lui ci ha dato una nuova piattaforma Anche questo ministero che voi state guardando In televisione È una buona piattaforma per seminare il seme Il buon seme che abbiamo sparsi in Africa Quando abbiamo fatto le campagne evangelistiche per tanti anni Quelle piattaforme avevano solamente lo scopo di portare persone a Dio Io mi ricordo ancora oggi Le moltitudini di persone che venivano le chiamate davanti al Signore E ripetevano la preghiera del pecatore Era come una cosa biblica Quando il sole stava calando E la presenza del Signore era potente su questa massa di persone Abbiamo lavorato insieme Operavamo insieme per la causa di Dio Prima il re 17 versetto 13 dice la parola Quella piccola vedova che aveva perso la speranza C'era una grande carestia Perciò lei era fuori Prendeva un po' di legna E il profeta di Dio Elia venne a lei E gli disse mi fai una piccola focaccia E lei rispose non ho nulla Sto solamente raccogliendo Un pezzo di legna Ho appena un po' di olio in casa E prima di morire voglio fare questa piccola focaccia per me e per mio figlio Non aveva più speranza Ma Dio intervenne in quel momento attraverso il suo servo E insegnò come operare insieme con Dio E anche se molte volte sembra una cosa impossibile Non senza senso Lei obbedì alla parola di Dio Andò e fece una piccola focaccia per Elia Prima di tutto Fece questa focaccia E credete nella promessa Perché lui aveva detto con lei Se tu fai una focaccia prima Dice il Signore Ci sarà abbondanza E tu continuerai a mangiare Tu e tuo figlio Se tu metti Dio al primo posto Lei operò con lui Tutti e due operarono col Signore E fu vero Che non finì il pasto Non ci fu morte ma ci fu vita Fino che il Signore regnò nel mondo Perciò quando Dio dà a voi una nuova piattaforma Operate con questa Opera con lui Numero cinque Un nuovo giorno Noi stiamo vivendo in un nuovo giorno di opportunità Siamo privilegiati di essere ancora vivi In un giorno di grazia Perciò prendete dei passi Fate dei passi mentre potete Numero sei Ci sarà un'abbondanza di cose Voi sapete come Dio li benedì Prendero tanto pesce Che avevano bisogno di un'altra barca Per caricarlo tutto Numero sette e ultimo La potenza Dello stare insieme Le barca venne insieme Le due barche vennero insieme E le riempirono tutte e due Quando noi operiamo insieme Noi vediamo che Lui è un Dio dell'abbondanza E Lui incontra ogni bisogno Perciò io voglio pregare con voi ora E benedico voi Affinché voi possiate operare col Signore E vedere la sua potenza manifestata in voi Se non hai ricevuto ancora il Signore Invitalo ora Nel tuo cuore E dia al Signore Gesù Mi pento Ricevo te come mio Salvatore Opererò con te Affinché sia fatta la tua volontà In nome di Cristo Gesù Che Dio ti benedica Tu sei in touch with us Mettetevi in contatto con noi Grazie Bye bye Amen For more information on today's programme Contact us today CCN 547 Antrim Road Belfast County Antrim Northern Ireland BT15 3BU Telephone 02890 779 552 Email ccn at ccnorg.com Check us out on Facebook and YouTube And visit our website ccnorg.com In addition to online, it will be available at FTC For more information on today's LinkedIn For more information on YouTube and visit our website ccnorg.com Orça 맛있ata www.fTC.com www.t realised Orça www.texs.org 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 www.tex.org www.tex.org